Non accumula ricchezze soltanto per sé, ma le mette al servizio degli altri. In questo caso le provvidenze di Dio si rende visibili? Ebbene sì, ci siamo. Buongiorno fratelli e sorelle, venite ad abbeverarvi alle fonti. Non della verità, perché nessuno è infallibile, come ha dimostrato il video del Santo Padre affacciato dal balcone di Piazza San Pietro. Piccolo inciampo può capitare, del resto è argentino. Ma la versione nostra, una ricostruzione di quello che sta succedendo a livello di attualità, a livello di economia, di politica, ma anche di cultura, di spettacolo. Dietro ogni fenomeno ci sono dei numeri, ci sono dei grafici, ci sono delle tendenze. Cercheremo di raccontarvele rispettando un giusto equilibrio fra quello che sta succedendo oggi, in questo momento, e il resto della settimana, dal momento che la versione di Piroso la troverete il giovedì alle 12.30 a partire da oggi. E adesso occupiamoci dei giornali che sono alle mie spalle. Bene, allora, giusto perché oggi è il momento in cui su tutti i giornali trovate quello che è successo ieri a livello di politica, tocca parlarne perché è giusto. Molti sono stati titoli sul processo per Salvini, processo per Salvini vince il sì. Vince il sì nel senso che il Senato ha dato l'autorizzazione a procedere, ma non sappiamo ancora se ci sarà un processo, né tantomeno se ci sarà una condanna. Nel senso che adesso è la procura di Catania, che aveva già optato per l'archivazione del caso, tra l'altro, a doversi consultare con il GIP e vedere se andare avanti oppure no. Diciamo che intanto il Senato ha detto alla magistratura, siete autorizzati a procedere. È una pagina molto composita, quella del Corriere della Sera. La cosa più interessante dal mio punto di vista, in realtà nel mare magnum delle prime notizie lanciate dal giornale milanese, è la notizia che riguarda il coronavirus, di cui fra poco parleremo, perché mette il Corriere della Sera in prima pagina una notizia che ci sono dei casi di guarigione. In realtà sono parecchi casi di guarigione, cioè siamo nell'ordine dei 4 mila casi di guarigione da coronavirus. È un dato che bisognerebbe, secondo noi, accompagnare sempre nel momento in cui se ne parla, visto che oggi soprattutto tutti sottolineano il balzo che ci sono stati nei ricoveri, nei contagiati e soprattutto nei morti. Ma ci torneremo. Poi, siccome il mercoledì è un giorno di stampa nazional popolare, una volta veniva definita così, cioè i settimanali ad alta tiratura, ne abbiamo scelto uno che ovviamente è ancora tutto immerso nel clima sanremese, del dopo Sanremo, un'edizione, secondo la RAI, di enorme successo, secondo noi di grande successo, ma non il successo storico, epico, che hanno cercato di raccontarci per una settimana. E anche di questo, come dire, vi daremo conto dati alla mano. Poi, diciamo che Loredana Lecciso ci racconta che con Albano c'è più passione che in passato, siamo felici per loro. Poi, proseguendo nella galleria delle testate al muro, che non sono quelle che dovete dare voi come elettori, ma proprio perché abbiamo deciso di metterle a mo' di galleria d'arte, c'è una vecchia copertina di Time che diceva, con Matteo Salvini, The New Face of Europe. I sondaggi dicono sempre che, per quanto riguarda le intenzioni di voto, la Lega di Matteo Salvini è ancora al primo posto, anche se le ultime rilevazioni dicono che è in flessione rispetto ai picchi di molti mesi fa. Addirittura vi ricorderete forse il 36%, il 35%, il 34%, adesso siamo dagli patti del 28%, ma rimane il primo partito nelle intenzioni di voto. Aggiungo che tutti i sondaggi dovete leggerli guardando anche l'ultima riga, quelli che sono indecisi o astenuti, perché influiscono sul risultato complessivo. In questo momento gli indecisi e gli astenuti, secondo l'ultimo sondaggio, sono circa il 40%. Poi, qui abbiamo, per omaggiare l'ex alleato di Salvini, ora alleato del Partito Democratico, abbiamo Luigi Di Maio su una vecchia copertina di Forbes del settembre 2018. Il dato curioso dal punto di vista cronologico, è che questa copertina ha la foto di Luigi Di Maio con uno scatto di Oliviero Toscani. Sono convinto che questo scatto sia stato fatto molto tempo prima rispetto ai tempi della copertina. Lo dico perché ad agosto del 2018, il 14 agosto, ci fu il crollo del ponte Morandi con tutte le polemiche legate alle concessioni autostradali dei Benetton e vi ricordo che fino a poco tempo fa, fino alla settimana scorsa, Oliviero Toscani era il fotografo dei Benetton. Poi ha avuto quell'improvvida idea di dire in una trasmissione radiofonica ma a chi interessano i morti il crollo di un ponte? Giustamente il conduttore ha detto ai parenti delle vittime, dopodiché è successo un ambaradan e Oliviero Toscani è stato accompagnato dai Benetton alla porta. Comunque il dato era che in quel momento questo scatto di Luigi Di Maio, i Cinque Stelle contro i Benetton, era stato fatto dal fotografo dei Benetton. E poi, visto che stiamo parlando del governo in carica, il governo in carica rappresentato anche dall'ara del Partito Democratico, questa non è una copertina recentissima, ma secondo me, per quanto non sia recente, risale al giugno dell'anno scorso, fotografa quello che molti continuano a sostenere a proposito della leadership sul partito di Nicola Zingaretti, che qualcuno ancora confonde con Luca Zingaretti. Luca Zingaretti è il commissario Montalbano, poi c'è qualcuno che dice forse sarebbe meglio se il segretario del PD fosse direttamente Luca Zingaretti, i soliti maligni. Compagno boh, perché certe volte non si capisce bene, al di là del fatto di governare insieme ai Cinque Stelle, dove questo governo stia andando e in quali condizioni. Ma da oggi in poi, almeno una volta alla settimana, ce ne occuperemo noi. Adesso pubblicità. Rieccoci, ben ritrovati. Dunque, abbiamo iniziato nel blocco precedente, facendo vedere le immagini del Santo Padre. Non volevo mancare di rispetto, sono un cattolico fervente. né evocare la blasfemia, facendo vedere una piccola parolaccia. Ma, ripeto, era solo per sottolineare che nessuno è perfetto e che le sbavature saranno anche le nostre. Poi, come si dice, scherza con i fanti, lascia stare i santi, nell'alto dei cieli, il Santo Padre, gli angeli, gli arcangeli. A questo proposito di ali, angeli, arcangeli, vi segnalo anche che oggi a tenere banco sono due notizie che riguardano compagnie aeree, la ex Alitalia ETIAD, perché 21 indagati con un'accusa pesante di bancarotta per le falsità nel bilancio del 2015, più, diciamo così, un'allegra gestione dei conti spese, 600 mila euro per pranzi e cene, immagini istituzionali, ovviamente. E poi l'altra notizia che riguarda Air Italy, che era la compagnia che ha preso il posto di Meridiana. Dietro c'è l'Aga Khan, che è sciita, e anche Qatar Airways, che è sunnita. Ora, nel mondo islamico, fra i due correnti, c'è una sana, non so quanto santa rivalità. Qui mi astengo da qualunque commento. Il fatto è che mentre l'Aga Khan non voleva ricapitalizzare, in sostanza, così mi pare di aver capito, i Qatarini, Qatar Airways, voleva ricapitalizzare, ma non lo può fare per i vincoli delle norme europee. Risultato, la Sardegna è ancora più lontana dal continente e 1200 persone sono rimaste a terra. Parlo di coloro che lavorano o lavoravano per Air Italy. Una bella grana di questo e anche del resto parleremo a breve con Marco Bentivogli, che è il leader dei metalmeccanici della CISL, ma è un sindacalista tutto tondo, è un esperto di cose economiche, quindi chi meglio di lui ci può dare una mano a capire un po' meglio questa fase congiunturale. Ma quanto ai numeri primi? Guardate che bella combinazione, giusto perché, vi ho detto prima, parleremo di politica, economia, di cultura e di sport, sempre con il tentativo di raccontare un risvolto economico. Abbiamo messo Ronaldo, perché a tenere banco adesso è la fatica della Juventus a gestire il primato, a parte il condominio con l'Inter, la gestione di Sarri, qualcuno ha detto che potrebbe tornare o potrebbe essere chiamato Guardiola. Vi ricordo soltanto, a proposito di Guardiola, che quando si diceva che potesse arrivare alla Juventus, ma lui continuava a smentire, perché diceva, ho appena rinnovato il contratto qui in Inghilterra, il titolo della Juventus schizzò alle stelle, senza che nessuno prova a vedere se dietro ci fossero manovre possibili di insider trading o di aggiottaggio. Risultato, Guardiola non è arrivato, non ha preso Sarri, il titolo poi è sceso, però magari qualcuno nelle more ci ha guadagnato legalmente, punto di domanda, la Consob, se c'era dormiva, ma lasciamo per... Del resto, Elisabetta Gardini di Forza Italia, parlamentare all'epoca, quando le fu chiesto cos'è la Consob, non sapeva minimamente di che cosa si stesse parlando. Vi ricordo quanto guadagna Ronaldo, quanto pesa sulle casse della Juventus. Ronaldo solo per il suo ingaggio guadagna dalla Juventus 31 milioni di euro netti all'anno. Qui ci siamo divertiti a scomporre i 31 milioni di euro all'anno, sono 2 milioni e 580 mila al mese, sono 85.968 al giorno, 3.582 euro, ripetuto perché facciamo vedere che abbondiamo all'ora, 59,7 euro al minuto, cioè 1 euro, 99 centesimi, ripeto solo di ingaggio, a questo euro al secondo vanno aggiunti 2 euro al secondo che guadagna con gli sponsor. Beato lui. Mi piace chiudere questa pagina, però consentitemi un ricordo di un grandissimo campione, Kobe Bryant, che ha finito sulla copertina di Time del 10 febbraio scorso, tre giorni fa, in ricordo e in memoria di lui, della figlia, che sono periti tragicamente in quell'incidente con l'elicottero, e vi regalo un frammento per ricordarvi che era un grandissimo campione in campo, ma era anche una persona simpatica, per bene, piacevole, non se la tirava, purtroppo noi siamo circondati da fenomeni in missione per conto di Dio. Kobe Bryant, sentite che cosa dice, ospite di un talk show americano a proposito del fatto che lui conosce le lingue e soprattutto conosce una parola del vocabolario italiano. Scopriamo insieme quale. Vabbè, ci stava, no? Ci stava questo racconto di questo episodio, ma a proposito di episodi epici nella storia del cinema, vedete qui in questo riquadro un'immagine, un frame che rimanda a Avengers Endgame, la pellicola che nel 2019 ha incassato di più 2 miliardi e 800 milioni di dollari, evochiamo il mondo del cinema nella settimana degli Oscar, perché spesso è un po' e poi ci stava più a fare il lavoro e poi non lo so il lavoro che ci ha e non lo so e non lo so ma il lavoro è un problema e non lo so ovviamente adesso probabilmente ancora qualcosa incasserà in questo caso se ci stava in questo caso è un problema è un problema Grazie a tutti. 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 attimo perché non si vede esattamente quanti sono i casi confermati a sinistra del Covid-19 che è stato ribattezzato. Covid-19, global case, comunque se non ricordo male il numero che non si vede dovrebbe essere 60.000. Le morti sono 1.369 su un totale di ricoverati di 6.200. Allora, qui serve mantenere la calma. Un conto è l'allarme e un conto è l'allarmismo. Lo dico perché, avendo già visto in passato tanti allarmi che si sono trasformati in allarmismo, vorrei mantenere un pochino di calma. Vi ricordo che a un certo punto nel 2005 si parlò di influenza aviaria, si smise di mangiare polli. Lamberto Sposini, che all'epoca era conduttore del Tg5, andò in onda mangiando il pollo, dicendo mangiatelo il pollo perché il pollo cotto non ripeste nessun problema. Dopodiché anche l'influenza cosiddetta aviaria, che venne prima dell'influenza su Ina, fu un fenomeno che si esaurì da solo. Come si era esaurito? Alzando i livelli di attenzione la SARS nel 2003. Ora, coronavirus, tutti a dire, siamo in presenza di una potenziale pandemia. Benissimo. Più morti del terrorismo, dipende qual è il parametro. Ma io vi do un parametro della stessa Organizzazione Mondiale della Sanità. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, quando parla dei morti che ogni anno che Dio manda in terra riguardano i morti per influenza si parte da un minimo di 350-360 mila morti fino ad anni in cui i morti sono arrivati, dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, a quasi 700 mila. Cioè stiamo parlando di 1.000-2.000 morti al giorno. Ora, a nessuno frega nulla dei morti per influenza perché molti erano anziani immunodepressi. Vi do una notizia. Pare che tra i 1.300 morti, oggi tutti a dire, erano 1.100 e sono 1.300. Sono tantissimi, mica che lo voglio sottovalutare. Ci sono persone anziane immunodepresse. Poi ci sono le persone che sono entrate in contatto col coronavirus e sono guarite. Parliamo di circa 4.000 casi. Allora, si potrebbe fare un ragionamento tenendo, come dire, le vene ferme, i polsi fermi e dire, benissimo, prevenzione, curiamo, puliamo con l'alcol, con l'acqua ossigenata, con la candeggina, adesso circolano le ipotesi più disparate, le mascherine. Ma io vi dico anche, siete stati in Cina di recente, dico voi che mi state guardate, siete stati in Cina? Siete stati lì nella città dove è scoppiato il focolaio? Non siete stati in Cina. Conoscete qualcuno che arriva da lì, cinese? No. Conoscete qualche italiano che conosce o frequenta qualcuno cinese che è arrivato da lì? Allora, prima di fasciarsi la testa, per carità, stare vigili, con le orecchie appizzate, informarsi, ma soprattutto non farsi deformare dall'informazione, perché giustamente tutti noi facciamo lo stesso mestiere, pestiamo l'acqua nel mortaio, ma poi c'è gente che in questi casi va al panico e non mi sembra che sia il caso. Adesso pubblicità e poi Marco Bentivogli. Eccoci qua, allora ve l'ho annunciato, preannunciato, è con noi il leader della FinCIS, i metalmeccanici della CIS, Marco Bentivogli, buongiorno. Buongiorno. Grazie di aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Ho visto, lo dico a favore di coloro che nel frattempo, io sono uscito parlando dal blocco precedente del coronavirus e ovviamente c'è giustamente allarme, anche e soprattutto per la ricaduta sul fronte economico. Marco Bentivogli mi stava segnalando una circostanza che io ammetto sempre quando sono ignorante. Che cosa c'entra il coronavirus con l'industria manifatturiera? In realtà è una notizia che fa vedere quanto la supply chain, la catena di fornitura della manifattura è ormai globalizzata, ma da molti anni, da decenni e Manley, l'attuale CEO di FCA, ha annunciato problemi tra circa tre settimane in uno stabilimento europeo. Ecco, noi abbiamo fatto qualche ricerca, non dovrebbe cadere questa difficoltà di approvvigionamento di forniture sugli stabilimenti italiani, però fa vedere come ormai tutto ciò che noi pensiamo si produca in un solo luogo e in realtà dentro una catena di produzione mondiale. Non so se avete apprezzato l'English fluente di Bentivogli, lo dico perché a proposito di coronavirus invece abbiamo scoperto dal ministro degli esteri Luigi Di Maio che il coronavirus si chiama coronavirus, da ieri è virus, ha detto che le componenti per le macchine di questo stiamo parlando, ormai è un mercato unico, quindi bisogna ritararsi, però scusi, visto che abbiamo parlato di automobili, noi oggi giovedì 13 arriviamo dalla notizia di un giorno fa che nel nostro paese l'industria ha tirato il freno a mano, cioè la produzione industriale, mi vuole dare qualche raguaglio e dire come se la sente Marco Bentivogli? Me la sento molto male e sono molto preoccupato perché i grandi quotidiani italiani, incluso il Sole 24 Ore che di solito dà risalto sugli indicatori economico-industriali, lo hanno un po' messo nelle pagine, in realtà è una frenata importante che non si aveva da almeno 5 anni circa e dal 2014 che non si aveva una frenata di questo livello, il problema grande è che persiste il dualismo in Italia Nord-Sud tra varie fasce più sviluppate, più dinamiche e meno dinamiche, la cosa nuova, il fatto nuovo è che sta frenando anche l'Italia più dinamica, noi abbiamo tra Milano, Bologna e Treviso un triangolo industriale che sostanzialmente ha il PIL della Svezia, per cui per immaginare in questo triangolo cosa c'è, questa parte del paese in questi anni è quella che ha spinto di più per il surplus di bilancia commerciale, cioè ha trainato le esportazioni in particolare di manifatturiero, quando spesso in Italia parliamo ma che cosa esportiamo, spesso i suoi colleghi dicono la moda, le cose, il caciocavallo, l'eno gastronomia, tutte queste cose qui, in realtà noi il 52% delle esportazioni italiane sono metalmeccaniche, la cosa che si esporta più nel mondo è la meccanica strumentale, compresa una parte di robotica, questa parte dinamica sta frenando e questo è un vero guaio perché questa parte ha tenuto in piedi il paese in questa fase e appellarsi come fanno tutti i governi che quando le cose van bene è merito loro, quando le cose van male è colpa della congiuntura internazionale, è un po' semplice ma è anche pericoloso perché è vero che ci sono alcuni fattori di livello internazionale ma gli altri paesi stanno reagendo con politiche industriali molto forti, la Germania, la Francia. Mi dica, visto che ha tirato in ballo la politica, a parte il fatto che io sono cresciuto avendo 60 anni, il triangolo industriale era il gemito, cioè Genova, Milano, Torino, invece lei adesso ha evocato il triangolo? Esattamente, si è spostato, Torino è da nord ovest a nord est, oggi è Bologna, Milano Treviso, il triangolo industriale più performante soprattutto nel suo dinamismo, infatti la cosa interessante, lo scorso anno in realtà dovevamo celebrare l'autunno caldo in fabbrica che è stata la vera rivoluzione, si parla sempre del movimento studentesco ma quello che accade nelle fabbriche fu la vera rivoluzione, si portò la Costituzione dentro le fabbriche, fu una cosa straordinaria. Poi arrivò lo statuto dei lavoratori dopo. Esatto, grazie al contratto dei metallmeccanici del 69, proprio al contratto degli elettromeccanici, ecco, in quel momento il nord ovest dell'Italia era il destinatario dell'immigrazione, ma non solo dal sud, anche dall'Emilia Romagna e anche dal Veneto, nessuno ci pensa oggi, in realtà l'Italia si è ribaltata e Torino oggi è dichiarata area di crisi, per cui la situazione è sempre più complessa ma come si vede c'è un riorientamento. Non voglio sfrucugliarla, però visto che ha citato Bologna e l'Emilia Romagna dove si è votato, è stato rieletto Bonaccini, ha visto che c'è un suo collega, ma della CGL che è entrato in giunta con Bonaccini, il vice segretario della CGL, è giusto che un sindacalista si impegni in prima persona in una giunta regionale di qualsiasi colore oppure sarebbe meglio coltivare la terzi età del sindacato? Ma proprio in quegli anni, nel 69, proprio la FIM e poi la CISL per primi sancirono nei loro statuti l'incompatibilità, se fai sindacato non puoi fare politica, per cui un sindacalista quando lascia il sindacato è un cittadino libero, può scegliere di fare quello che vuole. La valutazione su Vincenzo Colla che è un bravissimo sindacalista della CGL, è uno dei più aperti rispetto anche all'innovazione, secondo me è un ottimo risultato per la giunta Bonaccini perché fa occupare di lavoro, noi oggi 8 politici su 10 sono avvocati, questo è un problema molto serio, allora sentire parlare di lavoro e di industria, di persone che hanno sempre visto le fabbriche con il cannocchiale, preferisco che ci sia Vincenzo Colla, allo stesso tempo però mi dispiace che il CGL e CISL, noi sindacato complessivamente si priveranno di una intelligenza e di una competenza molto importante. Bentivogli, che differenza vede sul piano delle politiche industriali il lavoro tra il governo giallo-verde e il governo giallo-rosso? O giallo-rosa che dir si voglia? Ma purtroppo la cosa positiva in termini di metodo è che si sono iniziati i tavoli, i confronti, cioè c'è un po' più con questo governo, dal punto di vista però della spinta rispetto a quello che serve, di quello di cui parlavamo prima, all'industria, al lavoro, agli investimenti, a tutto ciò che bisogna fare sulla formazione, sulla ricerca, sull'innovazione industriale, ecco devo dire che sostanzialmente il partito che è rimasto costante nel conte 1 e nel conte 2 è abbastanza in disgrazia dal punto di vista elettorale, i suoi presupposti anti-industriali stanno contagiando però tutto il resto della politica, questo mi preoccupa molto perché tutto ciò che è accaduto in Ilva, in Wirpul, in tante vertenze è proprio il frutto di questa cultura anti-industriale che fa tanti proclami e spesso l'unico effetto è di far scappare le imprese che sono in Italia, noi abbiamo un compito diverso, consolidare quelle che ci sono e farne arrivare nuovi investimenti. Visto che hai evocato l'Ilva, ho letto che c'è stata una polemica neanche tanto strisciante fra lei e il governatore Emiliano a proposito delle ipotesi di decarbonizzazione dell'Ilva, intanto lo stato dell'arte, lì come siamo messi? Perché l'Ilva è stato un grandissimo cavallo di battaglia dei 5 Stelle in campagna elettorale, poi hanno detto una cosa, ne hanno fatta un'altra, poi dell'Ilva si sono disinteressati, parlo di quando Di Maio era Ministro del Sviluppo Economico e del Lavoro, adesso che succede lì? Onestamente il lavoro e l'industria hanno bisogno di stabilità, nel senso che se si scrive una norma, quella norma non può durare 6 mesi, se io faccio un investimento di lungo periodo o soprattutto come lavoratore, se sono in un'azienda devo avere delle certezze rispetto alla salute della mia impresa. Questo ricatto di breve termine che ormai ha contagiato tutta la politica italiana e purtroppo non solo italiana, sta facendo malissimo e non riesce a conciliare gli obiettivi che negli altri paesi invece si conciliano, l'ambiente e la produzione non si devono essere in scontro, cioè dentro il diritto al lavoro è insito il diritto alla salute, non posso far scegliere tra il cancro e il pane, vuoi lo stipendio però ti devi ammalare, certo. Questo è un industrialismo dell'Ottocento e però spesso una parte di ambientalismo che dice solo no aiuta queste cose. Ecco, la vicenda Ilva è stata segnata, io dico abbattuta sostanzialmente il regista del governatore della Puglia, di un pezzo del governo è il maestro Miaghi, quello di Karate Kid perché dai e togli le cose, apri, tieni aperta l'Ilva, chiudi l'Ilva, tieni aperta l'Ilva, chiudi l'Ilva, poi dai lo scudo penale, togli lo scudo penale, dai lo scudo penale, togli lo scudo penale. La vicenda Ilva io dico è un grande cartello sopra il nostro paese che dice al mondo se avete dei soldi da spendere state lontani dall'Italia e oggi di fatto noi stiamo dando tutte le responsabilità a Arcelor Mittal, io so che dire queste cose in Italia è subito lo stupido che dice sei filo padronale, ma Arcelor Mittal di fatto ha i dipendenti dal 1 gennaio 2019, la storia di Ilva viene dagli anni 60, è stata una storia in particolare pubblica, la proprietà in più di 50 anni di storia privata è stata solo di 17 anni e oggi è arrivato il più grande produttore di acciaio con tante contraddizioni sicuramente, ma dare la irresponsabilità di tutta una storia a chi è arrivato per ultimo suggerisce a chiunque volesse arrivare dopo di lui di stare assolutamente lontano e la cosa triste di questo momento è che si è bloccato il piano ambientale mentre si stava andando avanti anche su cose molto positive, il progetto meros, la copertura dei parchi minerari eccetera eccetera, contemporaneamente l'Ilva sta perdendo quote di produzione, quando io sento questi sovranisti che parlano sempre male, quasi sempre della Germania, in realtà grazie alle loro politiche le automobili… Scusi quali sovranisti perché ce ne sono da uno di due tiri? Ci sono di varie, però gli effetti sono gli stessi e cioè noi grazie alle loro politiche stiamo comprando per costruire le auto italiane a Melfi, a Pomigliano, a Cassino eccetera eccetera, quell'acciaio lo stiamo comprando dalla siderurgia tedesca, per cui è un sovranismo, io dico sempre siete sovranisti ma tedeschi, non italiani voi, perché state facendo gli interessi della Germania e della Turchia. Allora su questo bisogna assolutamente sbloccare e adesso c'è questo tentativo di costruire un nuovo accordo senza consultare il sindacato, almeno per adesso, poi ci consulteranno alla fine, in cui far entrare lo Stato con una quota molto importante e per cui però io continuerò a dire, tutto ciò che avrebbe pagato un privato lo pagheranno gli italiani con le loro tasse, non è un vero capolavoro perché bastava avere uno Stato credibile che non ha scontro tra i suoi poteri, la magistratura, l'esecutivo, il legislativo eccetera eccetera e in qualche modo far fare le cose che sono previste dalle leggi, c'è un piano AIA, un'autorizzazione integrata ambientale che è la più restrittiva d'Europa nella sderurgia, applichiamo. Applichiamo quella. Va bene, adesso poi mi dice, rientro dalla pubblicità perché lei, appunto Emiliano, dice tu parli tanto di decarbonizzazione ma è solo uno slogan elettorale, subito dopo la pubblicità, grazie. Eccoci, sempre in compagnia di Marco Bentivogli, ci siamo lasciati con Bentivogli, ma perché lei continua a pungere Michele Emiliano, dicendo i tuoi slogan sull'ILVA, la decarbonizzazione sono solo slogan elettorali? Perché la strada per battere i problemi che riguardano i gas a terra e per cui il riscaldamento globale devono essere strade praticabili, non slogan da campagna elettorale. Ah già, perché in Puglia si vota giustamente. Esatto, quando si dice utilizziamo il gas per decarbonizzare l'ILVA, innanzitutto il gas come dicono gli ambientalisti più ortodossi pugliesi è un combustibile fossile per cui non si tratta di decarbonizzazione. Secondo, non si può con una mano dire portiamo il gas nel ciclo integrale della produzione dell'acciaio e contemporaneamente bloccare la TAP delle due luna. 2 cavalli di battaglia comunque dei 5 stelle, i 5 stelle coltivavano... Però io sono sempre più convinto che bisogna un po' svegliarsi come italiani, cioè avere un politico che racconta esattamente due cose opposte e accontentare due bacini elettorali che chiedono due cose una contro l'altro vuol dire anche che gli italiani devono essere un po' più consapevoli e partecipi. Lo sono secondo lei? Molto poco, questo è un problema molto serio, la nostra democrazia è malata non solo per il funzionamento delle istituzioni, perché la democrazia funziona se c'è spinta dal basso, se c'è partecipazione, consapevolezza, se siamo il paese in cui la distanza tra realtà e percezione è la più grande tra i vari paesi industrializzati al mondo vuol dire che c'è un terreno di ricostruzione civile su cui bisogna lavorare e che riguarderà molti anni, il rullaggio culturale che c'è stato è stato molto efficace. Lei un pensierino alla politica non l'ha mai fatto? Spiego per chi magari fosse meno addentro, tuttora ci sono più persone che ritengono che se Bentivogli lasciasse il lavoro di leader dei metalmeccanici della Cisla, di sindacalista tosto, pronto, come vi farò vedere fra poco a metterci la faccia di persona sui danni fatti dai politici, sto parlando di Whirlpool ovviamente, ritengono che sarebbe un ottimo leader di uno schieramento di centro-sinistra riformatore. Lei questa ipotesi non l'ha mai accarezzata? Lo legge ma lei dice… io l'ho sempre negata non perché penso che la politica sia sporca, io penso che chi fa politica… stamattina presto leggevo delle lettere di Beniamino Zaccagnini bellissime, assolutamente straordinarie, ecco penso che bisognerebbe ritornare a quella politica, una politica che è per servire, non per servirsi. Qui hai una foto invece con Calenda e con Landini, dove eravate qui scusi? No, qui eravamo a un seminario organizzato dall'ambasciata inglese di Pontignano in cui si ragionava proprio di lavoro e tecnologia di diversi anni fa, insomma, lì infatti anche… e lì era la fine dei lavori, siamo fatti una foto così… Sì, quali sono i rapporti con Landini, con la CGL? Ma con… Scusi, aggiungo, intervista due giorni fa di Landini, a tutto tondo giustamente su Corriere della Sera, che è il principale quotidiano italiano, ma in cui diceva anche ad esempio bisogna fare la guerra all'evasione, perché i governi dicono ogni anno 120 miliardi di Euro che spariscono potenziali dalle casse dell'erario, cioè non ci arrivano, che parlava di rendiamo detraibile la spesa dell'idraulico, eccetera. Io credo che lei sia d'accordo che l'evasione è un problema serissimo, non so sulle ricette però. Allora, il rapporto dal punto di vista umano è buono, noi siamo stati un po' quando eravamo entrambi, io lo sono ancora, segretari dei metalmeccanici, lui della CGL e io della CISL, eravamo un po' in scontro continuo, ci sono state vertenze anche piuttosto divaricanti anche nei rapporti, però piano piano abbiamo costruito un rapporto umano decente, credo che sia sempre utile anche quando si hanno idee diverse, questa è una cosa che manca, vedo molto in politica anche nel sindacato, idee diverse, ma insomma avere rapporti umani di rispetto è quello che un po' rende autorevoli e questo sicuramente è un piano. Lui oggi si occupa di una grande confederazione come la CGL, per cui il suo interlocutore diretto è Anna Maria Furlan, per cui lascio alla CISL ovviamente i rapporti, devo dire sinceramente che ho trovato la sua intervista sull'idraulico appunto un po' più consona a delle chiacchiere da bar che ha il grande leader di un sindacato così importante come la CGL, tutti gli studi dimostrano che sgravare, detrarre quelle spese non ha nessuna efficacia nel nostro paese, CGL e CISL e Will hanno una precisa piattaforma sul fisco e sulla lotta all'evasione, invece di fare questi annunci spot una volta sull'unità, una volta sul fisco, una volta su qualche cosa, bisognerebbe in qualche modo portare avanti quello che si discute tutti insieme e che si deve portare a confronto con il governo, vedo in quest'ultima fase spesso molte fughe in avanti nel rapporto col governo da parte della CGL, io credo che l'atteggiamento più corretto sia quello della CISL, cioè di mantenere l'autonomia che ti fa scegliere con qualsiasi di governo, di destra, di centro, di sinistra, di scioperare o di fare accordi. E questo mi trovo assolutamente d'accordo, però devo anche ricordare a chi ci sta guardando in questo momento che lei ad esempio con Salvini ha avuto dei rapporti piuttosto altalenanti, tant'è vero che Salvini credo l'abbia querelata una volta o più volte? Una volta. Chi ha vinto? Era dentro una trasmissione televisiva, io dissi guarda non sappiamo quanto costa in realtà un immigrato, io so che lei è da 26 anni un politico, ha spese degli italiani, perché lei spiegava a me che degli italiani che prendono l'autobus, ecco lui è uno che usa l'autobus da 26 anni, mi sembra un po' poco credibile, anche perché è uno dei più famosi essenteisti in Europa. E lui l'ha querelata? Mi ha querelato, il GIP disse subito archiviamo perché effettivamente i tassi di assenteismo sono alti, ha voluto non archiviare e la sentenza ha spiegato, ha dato delle indicazioni che sostanzialmente su 100 sedute del Parlamento europeo il nostro ex ministro degli interni 91 volte su 100 era assente, successivamente come ministro degli interni è stato assente a quasi tutti i summit europei proprio sull'immigrazione, ma ricordano appunto perché delle volte querelare è un po' un autogol, perché nell'occasione della querela hanno raccontato anche la sua assiduità nella presenza da giovane consigliere comunale di Milano e praticamente era un grande assenteista. Parlo al cattolico Bentivogli, quando lui ma anche altri evocano, esibiscono simboli religiosi che effetto le fa? Mi fanno rabbrividire, non si possono portare i simboli religiosi che riguardano una propria anche intimità, è una cosa molto forte, chi ha la fede appunto la sente come una cosa non da esibire, chi la esibisce perché la usa come strumento, strumento di relazione, strumento elettorale e distrugge esattamente, è una cosa sbagliata, soprattutto perché anche il messaggio, oltre all'uso dei simboli religiosi che è una cosa assolutamente terribile a mio avviso, il problema è che lui lancia un messaggio che è opposto a quello del Vangelo. C'è vero un pezzo di credenti che credono che la religione cattolica sia una religione fatta di misteri, di oscurità e cose così, ma non hanno, sono cattolici senza Vangelo, che dice appunto avevo fame e mi avete sfamato, ero straniero e mi avete accolto. Questo è il Vangelo, non quello che dice affondiamo la nave. Noi siamo in un mondo in cui a me piacerebbe vedere politici che guardano le tendenze di lungo periodo e costruiscono progetti che passeranno ai successori, con un po' di continuità, non sarebbe male, come programmi spiegano che se le politiche non hanno almeno 30 anni di orizzonte sono dannose. Ma lei mi insegna che Giade Gasperi diceva che un politico è quello che pensa alle prossime elezioni, uno statista è quello che pensa alle prossime generazioni. Esatto, e se noi pensiamo all'Africa oggi ha 1 miliardo 100 milioni di abitanti, nel 2100 l'Africa avrà 4 miliardi 400 milioni di abitanti. Entrare, modificare queste statistiche attuariali demografiche significa fare politiche di lungo respiro, giocare alla battaglia navale sul Mediterraneo, scatenando l'odio del disagio delle persone, su quanto facciamo diventare rosso sangue il nostro mare è una cosa non solo orribile dal punto di vista civile umano, ma è anche completamente inutile e anche dannosa perché nel frattempo bisogna pensare invece al continente africano e chi oggi sta pensando all'Africa continua a pensare a come sfruttarla. o aiutarla in modo interessato come i cinesi e mi insegna che i cinesi sull'Africa credo che abbiano al netto del coronavirus hanno fatto un grandissimo investimento geopolitico. Le faccio vedere un contributo video a proposito della contestazione di cui lei è stato già ma perché lei ci è andato? Perché è facile, se ci vai è possibile, se non ci vai non succede niente. Vogliamo vedere il contributo che riguarda un'avvertenza che ha tenuto banco giustamente. Intanto ho una curiosità di tipo professionale antropologico, grazie possiamo sfumare tanto e anche non riesco a capire esattamente che cosa il signore stia dicendo, giustamente manifestava il suo disappunto, come si riesce a rimanere calmi in una situazione del genere. Io capisco le ragioni del signore, ma capisco anche, io sono venuto e vi dico abbiamo fatto un piccolissimo passo avanti che non esaurisce il problema, glaciale, temprato da lotte sindacali. Ma un po' sono abituato, innanzitutto perché considero anche le persone che mi contestano la mia gente, per cui anche se esistono momenti di sconforto, di rabbia, chi ci va a metter la faccia è con chi se la prende chi ha rabbia, con chi si fa vedere. Il politico non verrà mai a fare una cosa, anche una parte di sindacalisti, quelli che hanno fatto fortuna nei talk, non li troverai mai a parlare dicendo in momenti difficili, quelli sono la brigata lepre dei momenti assembleari. Io ho avuto varie volte delle contestazioni, ma i lavoratori bisogna affrontarli perché sono quelli che ti danno un mandato a fare un negozio. Tra l'altro stavo spiegando che l'incontro era andato malissimo. No, ma infatti mi sembrava che uno diceva, guarda abbiamo fatto un piccolo passo avanti, ma... Allora cos'è il dato? Si era spostato da novembre al 31 marzo l'uscita definitiva di Whirlpool da Napoli, da marzo siamo riusciti a spostarlo sostanzialmente vicino alla fine dell'anno, al 31 ottobre. Guadagnare tempo è ovviamente, in modo attivo significa costruire soluzioni, avere possibilità e opportunità in più. Io capisco che una parte di quei lavoratori, lì poi c'è stato un tafferugli, calci, spinte, qualche sputo, cioè sono tutte cose che... insomma se vuoi fare il sindacalista secondo me sul serio devi mettere in conto. Ecco io diffido dei sindacalisti che cercano e i politici sono la gran parte. Adesso non mi dica anche lei come Sarri se non volevo essere sotto pressione e lavoravo alle poste, sa che l'allenatore della Juventus ha suscitato un vespaio da parte di poste, poste e postini perché ha detto, quando gli hanno detto ma la classifica della... lei per chi tifa scusi? Eh questo piroso ci divide molto, ecco abbiamo... è una cosa che ci divide tantissimo. Non mi dica rosso-nero? No. No, anche. Juventino? Esatto. Ah! Che dolore, ci divide molto, sì pazienza, non ne farò una ragione. Appunto siccome la Juventus non è in una fase brillantissima, Sarri, quindi hanno detto come si sente con l'ombra di Guardiola che torna, tutta una vicenda, pure lì prima ricordavo, scusate facciamo una parentesi sportiva, ma che riguarda l'economia perché in questo paese poi ogni tanto, vedi sulla vicenda degli allenatori della Juventus, lei ricordava che il titolo della Juventus per l'arrivo di Guardiola era schizzato dalle stelle, poi dopo tre giorni chi doveva mietere, ammietuto e poi è ricrollato perché non era vero niente, dicevo nel sonno della Consob su eventuali insider trading, aggiotaggi vari eccetera. Lei non mi dice appunto se non volevo pressioni non vado a lavorare, sarei andato a lavorare alle poste? No, assolutamente no, bisogna rispettare tutti i lavoratori e tutti i lavori, però anche tutti quanto pensano alla carriera, a queste cose, a me piace fare il sindacalista, non in generale, piace fare il sindacalista dei metalmeccanici perché io conosco quel mondo e mi piace anche i momenti di dialettica accesa perché sono veri, la cosa che preoccupa è quando vai in un'assemblea e vedi un'apatia, ormai una sfiducia, le persone sono zitte, io preferisco avere una contestazione, possibilità di entrare in relazione, spiegarmi, sono stati momenti molto difficili, quando hai dei lavoratori che se la prendono con te, è successo un'altra volta in Alcoa, dove noi siamo fortissimi come Fimci, siamo il primo sindacato, sono sempre stato accanto a loro, io il giorno da anni, il giorno prima di Natale sono nella tenda con loro e parliamo, mangiamo insieme. Alcoa era l'avvertenza curata da Passera all'epoca? Sì, sì. Quando Passera scappò con l'elicottero? Io infatti siamo rivisti a un convegno con… Era ministro del governo? Ci siamo rivisti in un convegno e ha subito tessuto le mie mie logi. Era governo Monti o Letta? Era in mezzo, credo fosse Letta. Letta. E cosa accadde? Accadde che tre ministri dovettero scappare con gli elicotteri, esattamente, io li avevo preavvisati, ho detto guardate che se non fate entrare i metallmeccanici dentro la discussione, le persone si sentono escluse e dovrete scappare come gli americani dal tetto dell'ambasciata a Saigon, loro dicono scherzi. E accadde la scena, due elicotteri dei carabinieri arrivarono a Serbariu, la ex miniera di Carbonia e prelevarono i ministri, c'era De Vincenti, Passera, Barca che andarono via, fu un momento molto duro, perché per far atterrare gli elicotteri ci furono, io fui coinvolto, delle cariche della polizia durissime per consentire agli elicotteri di atterrare e spazzare via le persone, ecco loro, le persone però ecco anche tante contestazioni, tante cose che ti dicono dietro, però stare vicino alle persone, le persone poi se lo ricordano per tutta la vita, farsi dire dai metallmeccanici sardi sei uno di noi, per me è una bella metà. Io credo che i pastori sardi avrebbero portato a casa un euro al litro. Io delle volte preferisco qualche fischio per dire quanto è drammatica la situazione, chi dice balle e poi scappa, lascia, quei ragazzi della Whirlpool, intanto la gran parte dei lavoratori hanno reagito in maniera molto civile, e quelli che gridavano, purtroppo erano quelli che gridavano Di Maio uno di noi, perché Di Maio a quei lavoratori aveva spiegato ci penso io, piegherò la multinazionale e poi è scappato alla Farnesi. Allora, siccome dobbiamo chiudere, mi dico una cosa al volo, lei ha detto io sto dalla parte dei metallmeccanici e degli operai, alcuni di loro, molti di loro, pensano che la tecnologia, la robotizzazione toglierà il lavoro delle persone, lei che è un esperto perché ha scritto anche dei libri, uno slogan rassicurante su questo punto e chiudiamo. La tecnologia non è oggettiva, porta con sé i valori di chi la progetta, la tecnologia in realtà è un grande alleato innanzitutto dell'umanizzazione del lavoro, perché può essere utilizzata per cancellare la fatica, per ridurre i lavori nocivi e cancellarli e per dare, togliere i lavori ripetitivi e per cui dare più una dimensione realizzativa dentro il lavoro, quello che si chiama ingaggio cognitivo. Se noi, io ovviamente sono molto, scrivo questo manuale di resistenza alla tecnofobia, proprio perché i tecnofobi, la paura nel mercato politico soprattutto vediamo quanto sia utile, oggi infatti dopo i migranti si stanno occupando di roboi e di impresari della paura. Se noi guardiamo un dato, io mi sono permesso di contestare professori di Oxford su queste cose, penso a Frey e Osborne che hanno scritto questo grande saggio, io ho detto non ha nessun valore quel saggio eppure hanno preso anche tantissimi soldi su questo. Se noi guardiamo un indicatore che si chiama densità della robotica, cioè quanti robot di nuova generazione sono installati rispetto alla popolazione di ogni paese, i paesi che hanno una densità robotica maggiore sono i paesi a più bassa disoccupazione, i paesi high tech per eccellenza, Corea del Sud e Giappone, Giappone quest'anno ha sceso al 2,4% di disoccupazione. Io continuo a pensare che la disoccupazione, come diceva Ezio Tarantelli, non è un problema statistico, sociologico o economico, è tappare la bocca a milioni di ragazze e ragazzi e non farle partecipare. Ha fatto bene a chiudere con Tarantelli, non l'unico gius lavorista ammazzato dai terroristi come sindacalisti, prima parlavamo di Guido Rossa ucciso dalle Brigate Rosse nel 79, c'è stato anche un tributo di sangue, quindi è giusto fare le pulce ai sindacalisti quando si ritiene che stiano sbagliando, perché nessuno, come abbiamo detto dall'inizio con il Santo Padre e con la parolaccia del Papa, nessuno è perfetto, però è anche ricordare che appunto, poi ci sono stati sindacalisti che nei confronti ad esempio del terrorismo e di un mercato del lavoro riformato non si sono fatti intimidire fino a farsi ammazzare. Bene, oggi abbiamo sforato alla grandissima, ma era la prima puntata, grazie a Marco Bentivogli per questa piacevole chiacchierata, noi ci rivediamo con la versione, ai voi, di Piroso giovedì prossimo 20 febbraio alle 12.30 e chiuderemo alle 13.30, grazie, buona giornata.